L'una a sei mesi è una patologia dermatologica congenita che le sfigura il volto. E' atterrata in Russia con i genitori per sottoporsi a molteplici interventi chirurgici. La piccola è nata con nei melanocitici e enormi macchie che potrebbero diventare tumori della pelle. Abbiamo tentato in America, chiesto a specialisti di Chicago, Boston e New York. Siamo andati anche in Florida, ma la miglior risposta che abbiamo ricevuto è stata un conto di almeno 400 mila dollari per intervento e trattamenti che l'assicurazione non ci avrebbe coperto. Un calvario che è interessato ovunque ai media, suscitando anche l'attenzione di un dermatologo di fama internazionale come Pavel Popov. Su ha la tecnica per intervenire su pelli delicatissime e i Fenner hanno fatto migliaia di chilometri per dare una chance all'una. Non puoi sapere quanta gente mi ha chiamata per dirmi non andare lì, non sono bravi, quanta gente mi ha preso per matta, ma io avevo già deciso di provarci. Luna dovrà sottoporsi ad almeno sei interventi e a lunghi trattamenti, ma la spesa non supererà i 200 mila dollari. La famiglia ha lanciato un crowdfunding planetario per farvi fronte. Grazie.